Rinovato l'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti. Semplificazione edilizia, prosegue l'iter in aula. No all'impiccagione di Hamad Jalali. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Rinnovato l'Udp delle commissioni permanenti, confermate 6 presidenze su 8. Avvicendamenti per la seconda e la sesta commissione. Rinnovati gli uffici di presidenza di tutte le commissioni del Consiglio regionale del Piemonte. Il presidente del Consiglio regionale ha presieduto le sedute delle varie commissioni che hanno votato la composizione degli uffici di presidenza per la seconda parte della legislatura. Per la prima commissione, programmazione e bilancio, è stato confermato presidente Carlo Riva Vercellotti. Vicepresidenti sono stati eletti Federico Perugini e Sara Di Sabato, che succedono rispettivamente a Sara Zambaia e a Shonsacco. Per la seconda commissione, pianificazione territoriale e urbanistica, sono stati eletti presidente Walter Marin e vicepresidenti Mauro Fava e Alberto Avetta. Succedono rispettivamente al presidente Mauro Fava e ai vicepresidenti Paolo Ruzzola e Ivano Martinetti. Per la terza commissione, industria e commercio, è stato confermato presidente Claudio Leone. Vicepresidenti sono stati eletti Sara Zambaia, che succede a Paolo Bongioanni, e Monica Canali, sconfermata. Per la quarta commissione, sanità e assistenza, sono stati confermati presidente Alessandro Stecco e vicepresidenti Andrea Cane e Domenico Rossi. Per la quinta commissione, ambiente e parchi, sono stati confermati il presidente Angelo Dago e il vicepresidente Matteo Gagliasso, mentre Shonsacco succede al vicepresidente Alberto Avetta. Per la sesta commissione, cultura e istruzione, è stato eletto presidente Davide Nicco, che succede a Paolo Bongioanni, vicepresidenti Alessandra Biletta, confermata, e Diego Sarno, che succede a Daniele Valle. Per la settima commissione, affari istituzionali e denti locali, è stato confermato il presidente Riccardo Lanzo, vicepresidenti Letizia Nicotra, che succede a Davide Nicco, e Domenico Ravetti, confermato. Per la commissione, legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi, infine, è confermato il presidente Giorgio Bertola, vicepresidenti Mauro Salizzoni e Giovanni Battista Poggio, che succede a Federico Perugini. Semplificazione edilizia. È proseguito in aula l'esame della PDL 125. È proseguito nell'aula del Consiglio regionale l'iter della proposta di legge 125, norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia presentata dal gruppo consigliare della Lega. In seguito ad un accordo raggiunto tra maggioranza e opposizione, in particolare sui temi del consumo di suolo, sulle aree a rischio idrogeologico e sul recupero delle aree urbane degradate, nella giornata di martedì sono stati esaminati gli emendamenti rimasti, alcuni sono stati ritirati dalle opposizioni, relativi agli articoli dal 7 al 17 su 44 articoli totali della legge. La discussione proseguirà nella prossima seduta del Consiglio regionale. Nella seduta di martedì l'Assemblea ha anche votato diverse nomine riguardanti i presidenti dei collegi sindacali di numerose aziende sanitarie del territorio regionale. Nominati anche alcuni membri del Collegio Revisori dei Conti, della Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, la Venaria Reale e del Consorzio di Bonifica della Baraggia, Biellese e Vercellese, disegnati inoltre i componenti di alcune fondazioni, tra queste la nuto Revelli Onlus, la Marco Ballerini di Vercelli e la Fondazione Luigi Firpo. L'elenco completo delle nomine votate dall'Aula è consultabile sul sito cr.piemonte.it. Via alla discussione sulla nuova legge elettorale. In settima commissione è cominciato il dibattito dei partiti sul testo di maggioranza. La riforma della legge elettorale è tornata in settima commissione, dove è cominciata la vera e propria discussione sul testo presentato dalla maggioranza. Non sono ancora state trattate, nello specifico, le altre tre proposte di revisione dell'attuale testo provenienti da consiglieri di opposizione. Sulla proposta di legge a prima firma Lega, illustrata brevemente dal presentatore a inizio riunione, si è aperto il dibattito durante il quale sono stati sottolineati alcuni nodi. Detto che il numero dei componenti dell'Assemblea resterebbe invariato, è stata messa in discussione la questione delle soglie. Sulla abolizione dell'istino i pareri sono contrastanti, mentre in ogni caso circa il premio di maggioranza sembra esserci convergenza. Lo stesso può dirsi del principio della parità di genere, peraltro obbligatorio, e della possibilità di doppia preferenza. È stato anche sollevato il problema di una possibile sparizione dei monogruppi, nonché la questione degli assessori esterni, che oggi è limitata al numero di tre. La discussione prosegue nelle prossime sedute. Saif Hamad, Consiglio regionale in campo per impedire l'esecuzione del ricercatore Jalali. Il Consiglio regionale e il Comitato Diritti Umani e Civili si mobilitano per dire no all'esecuzione di Amadreza Jalali a Teheran. Martedì, nella pausa dei lavori dell'Assemblea, i consiglieri regionali e tutti i componenti del comitato si sono riuniti nel cortile di Palazzo Lascaris rispondendo all'invito del Presidente del Consiglio per opporsi all'annunciata in piccagione del ricercatore iraniano, vissuto tre anni a Novara, che sarà eseguita entro il 21 maggio. I partecipanti hanno esposto silenziosamente dei cartelli con la scritta Save Hamad. La Casa di Riposo Città di Asti versa in grave difficoltà finanziaria e la seconda in Italia per dimensioni. Il capogruppo PD ha chiesto chiarezza alla Giunta sul futuro della Casa di Riposo Città di Asti nel corso dei Question Time. La struttura, la seconda più grande in Italia, versa attualmente in una situazione debitoria preoccupante con 800 mila euro di mutui e 7 milioni di debiti, ha ricordato nella sua interrogazione il Presidente del gruppo PD. Molti i problemi che gravano sulla struttura, il dubbio sull'applicabilità del super bonus 110% anche all'RSA, la mancanza di riscontri alle richieste di fondi inviate alle fondazioni bancarie e infine la diminuzione di ospiti. Attualmente 169 rispetto ai 310 pre-pandemia su un totale di 345 autorizzati. La situazione della struttura, secondo quanto dichiarato in aula dall'assessore regionale alla Sanità, è attualmente all'esame dell'Avvocatura della Regione Piemonte, che ha chiesto ulteriori approfondimenti all'attuale commissario straordinario. La Regione sta valutando quale decisione prendere per salvaguardarne l'attività a partire da una proroga da concedere per i termini dei lavori di adeguamento. In occasione della Giornata dell'Europa, che celebra la pace e l'unità tra i Paesi dell'Unione, la facciata di Palazzo Lascaris, sede dell'Assemblea regionale, si è illuminata di blu lunedì sera. Un gesto simbolico per riaffermare i principi che dal 9 maggio 1950, storica data della dichiarazione Schumann, rappresentano le fondamenta dell'Unione Europea, ma che quest'anno vuole anche essere un messaggio di solidarietà verso l'Ucraina. Il Vice Presidente del Consiglio regionale, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, ha presenziato alla Giornata della Memoria della Deportazione e dell'Internamento Militare in occasione del 77esimo anniversario della liberazione del campo di Mauthausen. La cerimonia si è tenuta al Cimitero Monumentale di Torino nell'ambito delle celebrazioni per la festa della liberazione che proseguono fino al 15 maggio. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!